Ciao Giorgi, ho la tua barchetta, lo vuoi in San Pietrino? No, papà mi ha detto che non devo accettare San Pietrini dagli sconosciuti Hai ragione tu papà, io sono Penny Fassi, adesso ci conosciamo però Un minetto lo vorresti? No Lo vuoi un micione? No Hai neanche un tramezzino? No E una coppetta solo panna? Sì, la voglio Apri la bocca Aspetta Me l'ho preso E' così Allora la panna deve essere visibile, tu puoi stare anche un po' più indietro Fermi Allora la panna è un po' più indietro Allora la panna è un po' più indietro